Se ti piace questo video ti invito a farlo sapere lasciando un commento e mettendo un like. Inoltre se vuoi puoi anche iscriverti al canale. Oggi vi porto nel cuore pulsante del calciomercato dell'Inter, dove l'adrenalina è alle stelle. Già da tempo, sotto la guida esperta di Beppe Marotta e Piero Ausilio, si muovono le pedine che definiranno il volto della beneamata per la stagione a venire. Tra cessioni strategiche e acquisti mirati, l'estate si preannuncia ricca di colpi di scena. L'Inter, colosso del calcio italiano, non si accontenta di dominare solo i confini nazionali. La visione è chiara, conquistare l'Europa. Per raggiungere tale ambizione, è necessario un cocktail esplosivo di talento e potenziale, un mix di giocatori già affermati e giovani promesse pronte a esplodere. Tra i corridoi di Appiano Gentile si sussurra di un nome che fa tremare l'Europa, Mikael Fey, il difensore fenomeno del Barcellona, acquistato per una cifra irrisoria di 5 milioni di euro. Un talento grezzo, nato nel 2004, che ha già fatto parlare di sé con il soprannome di Il Mostro, grazie a una forza fisica da fare invidia. La sua recente esibizione con la maglia del Senegal, coronata da un gol spettacolare da 30 metri, non ha fatto altro che accrescere il suo valore, tanto che il Barca ha blindato il suo contratto con una clausola da capogiro, 400 milioni di euro. Ma perché il Barcellona dovrebbe cedere questo gioiello all'Inter? Ebbene, nonostante il valore inestimabile di Fey, le ristrettezze economiche potrebbero costringere il club catalano a considerare offerte, e l'Inter, con un'offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, potrebbe piazzare il colpo dell'anno. Con Bayern e Manchester United alla finestra, l'Inter gioca d'anticipo per assicurarsi il futuro della difesa nerazzurra. Restate sintonizzati, perché Marotta sta tessendo la sua tela, e il mercato estivo si preannuncia in Fucato.